Il decreto aiuti Quater prevede 100 milioni in più al terzo settore contro il caro Bollette e questo è il dato rilevante del decreto che comprende in larga scala anche tante altre voci come l'aumento della soglia del contante, accise e superbonus. Viene esteso a fine dicembre il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di elettricità e gas. Si tratta dello strumento destinato a imprese energivore e gasivore nonché alle aziende che si registrano elevati incrementi della spesa energetica già previsto fino a novembre nei precedenti decreti adottati dal governo e che ora viene ulteriormente prorogato. La rateizzazione delle bollette per le imprese può essere richiesta per il periodo dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 ma solo per la parte eccedente e l'importo medio contabilizzato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021. Per accedere alle misure le imprese dovranno formulare un'istanza le cui modalità saranno definite da un decreto del Mise da sottoporre entro 30 giorni l'ok al decreto. Essi moltiplicano gli incontri e le iniziative a sostegno del terzo settore come quello previsto per lunedì 21 della Confese Arcenti Campania che intende formulare alcune proposte indispensabili per le categorie economiche della ristorazione, del commercio e del turismo e dei servizi a rischio polverizzazione per l'impossibilità di far fronte ai pagamenti del caro energia e per altri aumenti. Sulle 15 proposte che per Confese Arcenti possono frenare l'inarrestabile crisi delle attività economiche produttive chiederemo risposte e impegno rigoroso ai politici intervenuti.